Sonica Sump 3 Basic è il primo sistema di lavaggio a ultrasuoni con cicli di sciacquo multipli e sistema di termoasciugatura completamente automatico. Ha una capacità utile di 6,5 litri ed è particolarmente indicato per trattare gli strumenti chirurgici prima della sterilizzazione in autoclave. Il touchscreen permette di controllare tutte le funzioni del ciclo automatico del sistema, dai parametri di lavaggio a ultrasuoni all'attivazione del sistema di sciacquo con gli ugelli spray, al processo di ThermoDry. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il ciclo di funzionamento della Sump 3 Basic. Prima fase, caricamento e lavaggio. Il sistema carica acqua pulita nella vasca e dosa in automatico il detergente. Il dispositivo di riscaldamento interno alla vasca porta in breve tempo la soluzione alla temperatura desiderata e inizia il lavaggio a ultrasuoni. Fase 2, scarico. Terminato il lavaggio a ultrasuoni, il sistema, tramite una pompa, elimina il liquido in meno di un minuto. Fase 3, una vera e propria innovazione brevettata dalla Soltik. Gli sciacqui multipli automatici con movimento dinamico dell'acqua. La Sonica Sump 3 Basic applica da 1 a 5 sciacqui con acqua pulita, eliminando ogni possibile residuo di detergente dalla superficie dello strumentario chirurgico. Fase 4, grazie al sistema di immersione in bagno liquido caldo e alla contemporanea asciugatura ThermoDry, altro brevetto Soltik, Sonica Sump 3 Basic garantisce strumenti asciutti in brevissimo tempo. La ventilazione finale, infine, permette di eliminare l'umidità della vasca di lavaggio e di raffreddare gli strumenti a fine ciclo. Sonica Sump 3 Basic comporta importanti vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali oggi presenti sul mercato. È completamente automatica, deterge con la potenza degli ultrasuoni, decontamina, sciacqua con la pressione e l'energia dell'acqua pulita e addolcita, controllata dall'innovativa tecnologia brevettata a Soltik, e asciuga lo strumentario chirurgico, tutto in un unico apparecchio. È sicura. Tutte le fasi vengono eseguite con acqua pulita, evitando ogni possibile contaminazione. Rispetta con rigorosità tutte le fasi previste dal protocollo di trattamento dello strumentario chirurgico prima della sterilizzazione. Riduce il rischio professionale durante la manipolazione degli strumenti infetti e l'inserimento di una password definita dal responsabile sanitario disabilita l'accesso alle funzioni di impostazione. È efficiente. Garantisce risultati superiori grazie agli ultrasuoni e alla Sweep System Technology. Inoltre, già dopo due risciacqui, il residuo di tensioattivi anionici è minore del limite di rilevabilità analitica quantitativa. È economica. Riduce i tempi e i costi complessivi di gestione. Per ogni ciclo di lavaggio vengono utilizzati solo 60 ml di prodotto detergente. Sonica Samp3 Basic, l'innovativo sistema ultrasuoni, ora completamente automatico.